esce la patch 1.5 rivoluzionaria secondo i razzer studio e iRacing lancia un comunicato ufficiale sul roadmap il development di iRacing dando delle informazioni bomba veramente non voglio soffermarmi troppo su quelli che sono ad esempio gli aggiornamenti a livello di contenuti come circuiti tipo Zandvoort era presente lo storico adesso stanno facendo quello nuovo e dicono che con 11 dollari e 25 se tu lo compri ti danno tutte e due stanno lavorando su nuovi circuiti come Algarve Portimao Misano Mugello Puckehop Ledon e Zandvoort come dicevo prima che vogliono rinforzare la parte di circuiti della Gran Bretagna e vogliono anche inserire se non ho capito male anche dei circuiti asiatici una roba mostruosa e la bomba mi starei dicendo Fabri è la pioggia no per me non è la pioggia sì la pioggia dinamica stanno lavorando su questo tipo di features dove bisognerà guidare come dei veri piloti adattandosi alla dinamica della pista eccetera una cosa fantastica fighissima ma secondo me non è la cosa migliore né tantomeno gli aggiornamenti grafici quindi il miglioramento anche del motore grafico di Erasing che già io l'ho sempre sostenuto hanno fatto un lavoro eccezionale perché un browser game che lavora con questa qualità grafica è pazzesca e non è neanche le migliorie che apporteranno al sound che trovo che non sia tanto male di Erasing e qui potreste dirmi allora Fabri è sicuramente il refresh degli ovali no non è neanche quello perché vogliono fare il refresh degli ovali allora hanno assunto altre persone quindi sì hanno ampliato il team di sviluppatori per poter avere più contenuti ed aggiornamenti più rapidi va bene ok allora che cosa hanno fatto Fabrizio allora potrei dirvi ragazzi stanno lavorando ad una modalità carriera che figata pazzesca per avere un'esperienza di Erasing ancora più coinvolgente con degli obiettivi no non è neanche questo già vi ho detto delle cose fantastiche la pioggia rinnovamento del motore grafico aumento del team di sviluppo la modalità carriera ragazzi che loro dicono noi abbiamo un sistema multiplayer che non ci batte ma siccome non ci basta to ti metto pure la carriera sto parlando che hanno annunciato questo lo devo leggere ragazzi allora il responsabile executive producer greg parla degli sviluppi del team tire fisica delle gomme che si occupa della modellazione dei pneumatici e della fisica di guida all'interno del simulatore ci sono praticamente sette punti fondamentali tire deformation models i modelli di deformazione dei pneumatici si riferiscono alla capacità del simulatore di riprodurre in modo realistico come i pneumatici si deformano durante la guida ragazzi è una notizia bomba perché la gestione delle gomme di racing è molto semplice sì c'è il consumo però non c'è una vera termodinamica e una deformazione di carcassa che mi ricorda qualcosa quindi stiamo parlando che stanno sviluppando questa features della gestione delle gomme in modo tale che il simulatore possa gestire la deformazione della carcassa durante la guida quindi spostamenti di carico eccetera ad esempio sotto forti accelerazioni frenato durante le curve questo aspetto è cruciale per simulare correttamente il comportamento dei pneumatici e l'aderenza alla pista secondo punto tire carcass torsional deflection sì che raga questa è una bomba pazzesca altra che la pioggia raga cioè questi si implementano pure i freni che si consumano cioè io non voglio dire però la torsione della carcassa del pneumatico è un altro aspetto della fisica dei pneumatici si riferisce alla torsione della struttura interna del pneumatico quando sottoposta forze laterali o di rotazione che stiamo parlando ragazzi ma mi sembra che lo studio del modello di r factor 2 c'è una cosa veramente fantastica quindi questo influisce sulla stabilità del pneumatico sulla reattività del veicolo contact patch il contact patch è l'area di contatto tra il pneumatico la superficie della pista la sua dimensione la qualità dell'aderenza determinano la tenuta del veicolo sulla strada e come esso risponde agli input del pilota stiamo parlando di un contact patch non stiamo parlando come forza motorsport e non per criticare di otto punti di contatto o cinque di assetto corsa competizione in cui qualcuno del mio interagio diceva ma tu quanti punti di contatto hai scherzando ragazzi questo è un team fantastico guardate quanto sono avanti capiscono quali sono le loro mancanze tac ci lavoriamo cioè è incredibile è fantastico finite element model il finite element model si riferisce ad un metodo di analisi matematica che viene utilizzato per avvalutare il comportamento dei materiali e delle strutture incluso il comportamento dei pneumatici in diverse situazioni di guida physics rate è la frequenza con cui il simulatore calcola la fisica del gioco avere una frequenza più elevata può migliorare la fedeltà del simulatore della simulazione e fornire una guida più reattiva e realistica heat build up end gradient l'accumulo di calore e il gradiente termico si riferiscono al modo in cui pneumatici generano calore durante la guida e come questa temperatura può variare in diverse parti del pneumatico thread profile si riferisce al design della forma della superficie del pneumatico che entra in contatto con la pista il profilo del pattistrada influisce sull'aderenza e sulle prestazioni del pneumatico quindi Greg evidenza che il team è notevolmente cresciuto e sta lavorando con un determinato focus per migliorare il modello di guida di pneumatici affrontando aspetti come la deformazione la torsione l'aderenza del comportamento termico questi aspetti sono quindi essenziali per fornire un'esperienza di guida autentica e realistica sul simulatore air racing inoltre Greg menziona che i termini e i test relativi a questi aspetti sono oggetto di discussione e sperimentazione quotidiana suggerendo che il team è pienamente impienato nella continuità e evoluzione del modello di guida e che presto potrebbero rilasciare ulteriori dettagli e approfondimenti riguardo a queste importanti funzionalità quindi ragazzi la bomba atomica secondo me è il fatto che air racing ha messo in chiaro che stanno sviluppando e potenziando la parte della dello studio e dello sviluppo della termodinamica e fisica delle gomme ovviamente tutto il resto è una bomba enorme ok la pioggia su air racing lo sviluppo del motore grafico le memorie migliorie audio mamma mia quante cose hanno in serbo air racing ragazzi qui veramente è un qualcosa di mostruoso una bomba atomica spaziale sono veramente felicissimo io già ho messo qui a scorrere delle immagini che hanno lasciato in anteprima su air racing ragazzi cosa dire secondo me è un qualcosa di mostruoso che attende lo sviluppo di air racing che già nel panorama del mondo della simulazione dice la sua con tutta la tranquillità di questo mondo se poi vanno attaccare i punti saldi dei diretti avversari quali termodinamica delle gomme fisica motore grafico audi eccetera non ho altro da aggiungere se questo video queste notizie bomba su air racing vi sono piaciute non esitate a lasciare un pollice in su commentate iscrivetevi al canale tante gratuito noi ci vediamo prestissimo da fabrice è tutto un abbraccio ciao